Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Finuse. Apriamo quest'edizione con la cronaca e con la notizia che riguarda gli arresti dei nove extracomunitari ritenuti responsabili dello sbarco di 932 clandestini di varie ettenie avvenuto la scorsa notte a Pozzallo. Questa mattina i dettagli dell'operazione sono stati resi noti in conferenza stampa che si è tenuta presso la procura della Repubblica di Modica. Sono stati arrestati i responsabili dello sbarco avvenuto la scorsa notte a Pozzallo. Nella tarda serata di ieri gli agenti della squadra mobile di Ragusa insieme alla Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Pozzallo e ai carabinieri della compagnia di Modica hanno sottoposto e stato di fermo di indiziato di delitto. 9 cittadini extracomunitari. Si tratta di Asen Mustafa egiziano di 34 anni, Sadeq Abdarsi egiziano di 26 anni, Amnseim Mohamed egiziano di 43 anni, Zeru Kifuade egiziano di 37 anni, Belmahel Jaban algerino di 31enne, Karbash Abdelak algerino di 30 anni, Dopfete algerino di 29 anni, Benfatei Esri marocchino trentenne e Cerni Ahmed tunisino di 25 anni. Su di loro pesa un grave indizio di colpevolezza del diritto di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il positivo risultato ottenuto con l'operazione è il frutto di una coordinata attività info-investigativa effettuata dagli uffici operanti. In particolare, intorno alle 17 del pomeriggio, gli agenti della Guardia di Finanza di Pozzallo hanno ricevuto la comunicazione dalla sala operativa di Palermo della presenza a circa 22 miglia da capopassero di un barcone carico di immigrati in avvicinamento verso le coste eblee. All'interno stipati c'erano 932 persone di varie etnie. Il barcone è stato trainato a Pozzallo ai clandestini sistemati presso il CPA ubicato nell'area doganale e nella palestra del campo sportivo. Gli stessi sono stati sottoposti alle progetture di identificazione e foto o segnalamento. Indubbiamente si è trattato di un viaggio di grande rilievo, trattandosi di 930 persone che hanno sfidato il mare in condizioni assolutamente precarie. Per fortuna non si sono verificati incidenti e l'attraversata anche grazie al tempestivo intervento delle forze di pulizia italiane si è conclusa in maniera, diciamo, per il momento relativamente positiva. Siamo arrivati ieri all'identificazione di 200 persone. È un numero rilevante, identificare, fotosegnalarli, richiedere all'Afis. Ma come ci siamo arrivati? Sì, ho detto che erano venute delle postazioni da Catania, però molti sono stati portati nelle stazioni dei Carabinieri, cioè prelevati, portati nelle stazioni dei Carabinieri dove abbiamo operato insieme. La collaborazione è anche questa. Per cui noi abbiamo potuto assicurare ieri delle condizioni, perché trasferirli è stato anche metterli in condizioni di vivibilità, perché portarli nei centri dove possono vivere, possono stare, possono uscire, possono far valere i loro diritti è importante. Però è molto importante identificarli. Se noi non abbiamo la possibilità, anche sotto il profilo della sicurezza, che non è un dato da trascurare, se noi non abbiamo la possibilità di identificarli, non possiamo procedere alle fasi successive. E sulla questione sbarche è intervenuto in queste ore l'onorevole Nino Minardo, deputato alla Camera del PDL, chiedendo al Ministro Roberto Maroni un'azione immediata per poter arginare l'arrivo di flussi di migranti nel nostro territorio. Sentiamo. L'arrivo di quasi mille migranti al porto. Il rischio per la loro vita salva solo grazie al lavoro incomiabile delle nostre istituzioni, le decine di donne e di bambini, la necessità di dare loro aiuto e sostegno. Il ricovero di alcuni di loro in ospedale a Modica per le condizioni di estrema disidratazione con cui sono arrivati. Il ricovero di una donna incinta che ha rischiato di perdere il suo bambino. Sono solo alcune istantanee di una nottata terribile per la città di Pozzallo, che rischia di diventare un'abitudine se il governo non pone immediatamente un'argine. Sono queste le parole che l'onorevole Nino Minardo, deputato alla Camera, ha rivolto al Ministro degli Interni affinché si trovino delle soluzioni immediate per fronteggiare l'emergenza sbarchi, che come ha affermato Minardo rischia di acquirsi ancora di più a Pozzallo e dunque nel territorio ebleo. Oggi, ha dichiarato Minardo, è necessaria la presenza del governo che deve intervenire per normalizzare la situazione come ha fatto a Lampedusa. Sosteniamo la politica dell'accoglienza, ma il territorio ha bisogno di risorse e i cittadini di sentire lo Stato davvero vicino che garantisca loro sicurezze e diritti. L'appello è dunque al Ministro Maroni affinché intervenga mettendo a disposizione tutte le risorse logistiche umane ed economiche necessarie per evitare il collasso di un territorio dove la parola solidarietà ha sempre prevalso, ma che per far questo ha dovuto contare solo sulle proprie forze che oggi più che mai risultano deboli e inadeguate per affrontare l'emergenza. A Vittoria è stato arrestato un giovane per ricettazione di una carta a Bancomat. Ma sentiamo i particolari in questo servizio. Arrestato o pregiudicato per ricettazione di una carta a Bancomat. Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagna di Vittoria, nell'ambito delle attività investigative finalizzate al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione cautelare nei confronti di Claudio Giunta, 24enne vittoriese, pregiudicato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Ragusa su richiesta del pubblico ministero Serena Menicucci, che concordava con le risultanze investigative dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vittoria. Le indagini dei militari del nucleo operativo durate circa due mesi ed iniziate all'indomani della denuncia di furto sporta da una donna vittoriese alla quale era stata sottratta la carta a Bancomat all'interno della propria abitazione. Hanno portato all'individuazione del giovane fermato che utilizzava la carta rubata, avendo fatto alcuni prelievi presso sportelli Bancomat poche ore dopo che la tessera era stata indemidamente sottratta. Da qui la richiesta dell'ordinanza di carcerazione per i reati di ricettazione, in debito utilizzo di carta Bancomat di cui non si ha la titolarità, e in osservanza degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Al termine della compiuta identificazione negli uffici della compagnia di Vittoria, l'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Ragusa e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel pomeriggio di lunedì la polizia di Modica ha denunciato in stato di libertà una turista di nazionalità russa di 60 anni, che attratta dalla bellezza dei preziosi monili in vendita presso un negozio di piazza Corrado Rizzone, non ha resistito ad arrubare un costoso anello. L'immediato intervento della volante ha consentito il recupero dell'area furtiva e l'identificazione della responsabile con l'inevitabile conseguenza della segnalazione della turista alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica. Concluso il corso dedicato alle tecniche di salvataggio e di pronto intervento, che si è svolto in questi giorni a Pozzallo presso la Capitaneria di Porto. Al corso hanno preso parte 20 militari della Guardia Costiera, che hanno ricevuto gli attestati di abilitazione. Si è concluso ieri pomeriggio con gli esami finali superati da tutti i candidati, il corso BLSD Basic Life Support Defibrillation, svolto dal maestro di salvamento della Società Nazionale di Salvamento Sezione di Ispica, Fabio Biagio Fidone. Al corso hanno preso parte 20 militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che hanno potuto così acquisire familiarità con le principali tecniche di sostegno e le funzioni vitali, da mettere in pratica durante la diuturno attività istituzionale di controllo e vigilanza a mare e sul litorale della provincia eblea. Infatti, in previsione dell'imminente stagione estiva e dell'inizio dell'operazione di controllo del litorale denominata Mare Sicuro, il corso in questione, che si è svolto in due intense giornate negli uffici della Capitaneria, è stato organizzato per preparare i militari all'uso del defibrillatore per far acquisire ulteriori competenze professionali e tecniche specifiche e necessarie per la salvaguardia della vita umana in mare. L'abilitazione conseguita rappresenta un'oltre importante tassello che va a completare la particolare specializzazione e capacità di intervento operativo richiesta ai militari della Guardia Costiera Pozzallese per affrontare e risolvere in maniera efficiente e tempestiva tutte le emergenze che possono essere incontrate durante il servizio. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.